I dipendenti di questa azienda che corre grossi rischi, si tratta di decine e decine di persone, sono saliti sul tetto dell'azienda inscenando una protesta, come dire, molto appariscente. Sentiamo. L'Asa è sul tetto, i primi ad aver protestato per la paura di perdere il loro posto di lavoro. Si è qui da due giorni, ininterrottamente nessuno è ancora sceso. Oggi, come abbiamo già detto, l'apertura delle buste, ma qui non è ancora stato comunicato nulla. Ovviamente la paura di perdere il posto di lavoro è grande, ci sono famiglie, ci sono figli da mantenere e i lavoratori che vedi sul tetto ci stiamo organizzando per riuscire a raggiungerli e per riuscire a dare qualche anticipazione anche sulle loro richieste. Non è facile perché, giustamente, i vigili del fuoco non permettono l'accesso. Ci organizzeremo con i cestelli, qui ci si muove, si sale e si scende solo con i cesti che portano su e giù i pasti ed eventualmente anche le persone. Bene, allora, qui con me ci sono molti dei dipendenti di Asa, un'azienda che fondamentalmente è solida, non ha problemi come le altre aziende di lavoro. Nessun problema di lavoro, infatti il lavoro ce l'abbiamo e purtroppo siamo in questa situazione. Allora, un consorzio che deve in questo momento trovare qualcuno che acquisti l'appalto? Deve trovare un acquirente, ci sono le buste presentate, non sappiamo ancora cosa sono le buste quindi stiamo aspettando e trepidando per sapere cosa succederà. C'è paura di perdere il posto di lavoro? È parecchio, parecchio. Anche perché comunque noi siamo in un territorio dove anche i nostri bravi sindaci dovrebbero mettersi una mano una volta alla coscienza e prendersi le sue responsabilità. E quei sindaci ieri hanno invitato alla calma? Capitasse loro starebbero calmi? Probabilmente starebbero molto più calmi, è meglio che si agitino un po' loro invece di noi, che noi stare calmi. Sarebbe meglio lei dice? Sì, sì. Però qui c'è anche un gruppo femminile, c'è paura? Gloria? Grazie. Graziella. Noi continueremo a rimanere qui e a fare questa dimostranza qua, fin quando non riusciremo ad avere un risultato positivo. Allora, l'azienda è commissariata da tempo, è possibile che si sia dovuto arrivare a questo per risolvere i problemi dei dipendenti che tra l'altro siete qui da molti anni? Certo. Abbastanza. Siamo qui dal 2006, 2008, anche da prima. Non abbiamo avuto nessun risultato, adesso rimarremo qua, vediamo cosa succede. Si va avanti a oltranza? Penso di sì, spero di sì, sicuramente. Allora, come ti dicevo, Patrizia, al momento le notizie che arrivano non sono molte. Da sopra ci dicono che sono ancora tutti riuniti in conclave per cercare di capire se è arrivato l'acquirente e quindi chi salverà le sorti di tutti questi posti di lavoro. La cassa integrazione, l'abbiamo spiegato, non è stata richiesta. Per tutti gli aggiornamenti ci teniamo in contatto. Cercheremo di andare sopra a sentire cosa ne pensano i più agguerriti, i primi promotori di una protesta che tutti quanti qui stanno sostenendo ampiamente.